Non la denunciava presente a se stessa. Una giornalista telefonò a mio fratello per dirgli che voleva presentargli una sua amica che aveva delle facoltà paranormali per fargli delle domande. Ben volentieri mio fratello accettò, ma ai lunedì del primo appuntamento la giornalista non venne per un malessere della sua amica. Si messero nuovamente d'accordo e questa volta la giornalista disse a mio fratello che con lei sarebbe venuta anche un'altra sensitiva. Si conobbero in tre per la prima volta. Si sedettero nella stanza che a casa di mio fratello funge da luogo di riunioni e cominciarono a parlare ma una delle due amiche della giornalista cambiò subito posto e si sedette su un piccolo divano di fronte a mio fratello. Da allora cominciò a guardare o meglio a fissare un luogo alla destra e alla sinistra della testa di mio fratello e dopo molto con un'espressione che non la denunciava presente a se stessa disse tuo nonno è alla tua destra. Mio fratello che è stato chiamato più volte in episodi paranormali rimase sorpreso ma non commentò fino a quando la sensitiva aggiunse che chi diceva di essere nostro nonno aveva lo stesso nome di battesimo di mio fratello. Fino allora non si erano scambiati nessuna informazione che esulasse dalle modalità elementari che caratterizzavano la paranormalità delle due sensitive. La sensitiva aggiunse alla tua sinistra c'è l'imperatore romano Antonino Pio. A questo punto mio fratello avvertì un colpo nello stomaco come la prima volta che assistette a un apporto a casa del medium romano Demofilo Fidani. Vent'anni prima con la sua compagna e una coppia di amici si era recato in provincia di Biella per conoscere Amedeo Boldrini un operaio tessile poi trapassato per un cancro al pancreas. Amedeo incideva nel marmo figure che diceva gli erano suggerite da entità extraterrestri. Oltre a questi lavori sul marmo Boldrini disegnava sotto la stessa ispirazione su grandi fogli di carta. Inoltre produceva degli apporti e qui mio fratello è stato costretto a dirmi quello che successe. Costretto perché questa testimonianza lucidava il suo io. Per tre giorni restarono in una pensione vicino alla casa di Amedeo Boldrini. La mattina del primo giorno Amedeo dopo aver fissato a lungo mio fratello gli chiese ma tu hai a che fare con l'antica Roma? Mio fratello rispose di no del tutto ignaro del perché di quella domanda ma la mattina del giorno dopo Amedeo gli fece la stessa domanda e il pomeriggio dello stesso giorno nel corso di una trance istantanea produsse dalla bocca l'apporto che si vede nella foto e una moneta antica con l'effigie di Antonino Pio. Capisco che tutto può essere spiegato con la telepatia perché la sensitiva può avere pescato le notizie di nostro nonno e di Antonino Pio nella mente di mio fratello nel suo corpo mentale dicono le guide ma forse questo episodio può inseminare qualcuno che inizia a credere nella reincarnazione. Infine alcune guide hanno detto a mio fratello che lui è tanto interessato all'oltre perché è un'anima antica.